per Sandra Milo ultimo bambolotto della Befana che ha spazzato con la sua magica scopa l'allegro periodo festivo. Sandra è stata ed è sempre buona, meritevole di doni e contratti. Sandra impara per difendersi a maneggiare pistole e fucili, ha già il portodarmi per i suoi occhi che possiamo definire assassini. Sandra Milo fa centro con estrema facilità, dando Milo da torcere a chi la sceglie come bersaglio.